Ed entrano a far parte della FIPE di Andria, l'associazione che riunisce baristi e pasticcerie anche 30 ristoratori. Il loro obiettivo è pensare insieme al futuro progettando la ripartenza e il servizio. La FIPE di Andria, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, si amplia. Oltre a bar e pasticcerie, la Federazione accoglie ora anche i titolari di ristoranti, imprenditori che hanno deciso di riunirsi per far fronte insieme alle difficoltà della ripartenza dopo il lockdown, ad aderire una trentina di realtà imprenditoriali andriesi, presidente del gruppo e Gabriele Leonetti di Villa Vittoria, mentre Michele Del Rico del ristorante Berberis ricopre il ruolo di vicepresidente. Il direttivo è composto anche da Giuseppe Castellano dello Steccato, Savino Lotito del Cock d'Or, Riccardo Monterisi di Forchetta Food, Nicola Monterisi del Bastian Contrario e Nicola Quacquarelli del Cortile. Riadattare i propri locali, sistemare i tavoli a distanza, garantire misure igienico-sanitarie adeguate alle linee guida. Sono solo alcuni dei problemi gestionali che in questo momento i ristoratori sono chiamati ad affrontare e a risolvere per offrire un servizio alla propria clientela più che mai sicuro ma anche piacevole. Siamo certi che ce la faremo, ha dichiarato Claudio Sinisi, presidente di Confcommercio di Andria, perché ciò che prima a tutti è riuscire a ripartire in tutta sicurezza, ma con una forza in più, quella di fare gruppo.